Nel mondo Windows, Windows è meglio, tutto quello che vuoi, c'è poco da fare, poi adesso finalmente che hanno fatto un portatile pro, vero, cioè con cazzo, l'HDMI out e tutto, guarda, è spedito esposito, torna indietro nella live, torna all'inizio della live e ti vedi cosa ne penso di Salmo, wireless, funzionerà? Sì, fantastico. Allora tu conta che nel mondo M1 8 giga di RAM vuol dire 16 in realtà, quindi ci lavori comunque bene, poi da un punto di vista di futuribilità del tutto io consiglio sempre quando si compra un Mac di maxarlo col massimo della RAM che ti danno perché ti porta sicuramente più, cioè ti porta un prodotto che ti dura di più, no? Che poesia questa live all'alba? No, non qualche anno, Waves è appena uscito con gli M1 e poi sai cos'è? Il problema è che il problema del nativo non nativo non si pone perché il loro cazzo di convertitore di comandi da M1 a Intel fa paura, cioè va da dio e quindi se tu switchi oggi non hai problemi, a meno che tu non abbia qualche roba custom strana e tutto, cioè se in questo momento vai in un negozio, tiri su un M1, ti vanno tutti i programmi che ti andavano prima, almeno per quanto mi dicono tutti i miei colleghi, ma va fottitene, ma perché? Ma tanto già funziona, no? O non funzionano? La performance è uguale, cioè non potrà far altro che migliorare poi in futuro la performance, però al momento, cioè anche se non è nativo Spitfire, fregatene, Avid è un discorso a parte, Avid non voglio neanche nominarli, cioè loro per me non, cioè Avid sono fatti, devi farti una macchina apposta per quello e basta, cioè. Eh che Rosetta 2 fa paura, cioè, però Avid è, ma da sempre, cioè Avid aveva problemi su Windows 10 quando diceva la gente di rimanere su Windows 7, cioè, ma sì, ma una follia, ma Avid loro sono così, non puoi farci niente, cioè, conosco studi che hanno Pro Tools HD e hanno ancora Windows 7 perché sanno che su lì funziona, cioè, una follia quella roba lì, capito? Non puoi, non puoi lavorare così, sei veramente schiavo di un'azienda. Io sarei terrificato se sono, se fossi ancora su Pro Tools, cioè, sarei terrificato, sarei, cioè, mi cagherai addosso tutti i giorni perché potrebbe succedere qualsiasi cosa e smetti di lavorare. Oppure potrebbero arrivare domani e dirmi, ciao Francesco, vuoi continuare a usare Pro Tools? Sono 1000 euro al mese e tu devi pagarli e basta. Quella lì, quella di fatto di mixare in Atmos su Logic è un'altra di quelle mosse che farà passare tutti a Logic. Hanno vinto, cioè, io posso, dovevo fare un video di sta cosa, dopo finisco la live e lo registro, in cui mi congratulo con l'Apple e dico che hanno vinto, cioè. No, 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 adesso l'Atmos ce l'ha anche Amazon Music, che avrà sia l'Atmos che il Reality 360 Audio, quello della Sony, e basta, cioè, nel senso, cioè, con quella mossa lì, basta, ha vinto Apple. Col fatto che il Dolby Atmos gira solo su Apple, siamo tornati ai tempi in cui c'era il, come si chiama, i Mac G4, che erano 50 volte più potenti del PC e, cioè, dovevi prendere quello e basta. L'idea è quella. Beh, se sei un utente avid vero, hai preso il Mac Pro, ok? Guarda, vi reciterò la telefonata di un mio collega. Tiro sul telefono e mi fa, porca puttana, ho speso 40.000 euro di Mac Pro con le rotelline, vaffanculo, cazzi e mazzi, esce un portatile di merda da 4.000 euro che mi fa più potente del mio. E io, sì, benvenuto. Questa è la recitazione della telefonata di ieri, l'altro ieri. Diretta, suco. No, questo qua è... Buongiorno, eh. Arancia rossa, figa, amaro come la morte. No, 100. 100 liperiani. Saluti a tutti. Rispondono in chat, mica parlano. Oh, finito, eh. Tetto preciso. Tetto fatto. Io, caro. Dove cazzo ho messo il poso? C'è, hai capito? Però sono sempre 4K. Sì, però se conti che il MacBook Pro che ho preso, quelli ancora, quelli 5-16 giga di RAM che ho preso nel 2008, sta ancora funzionando. C'è la mia amorosa e fa paura. Va ancora da paura. E quindi, cioè, anche se sono 4.000 euro, ma se mi dicono ti durerà quella quantità di anni, capisci che ci stai dentro. Cioè, capisci che anche fai un leasing da 4 anni dormi sereno. Che è una cosa che non posso dire delle mie macchine portatili PC. Cioè, il Lenovo che ho, che ha circa la stessa età del Mac Pro che c'è in mano la Laura, non va così bene. Cosa vuoi? Cioè, mio assistente di Amazon. Però le workstation Lenovo Dell hanno un mercato dell'usato che si svaluta tantissimo e le porti via veramente a poco. Mentre il Mac non si svaluta. Questa qua è la grossa differenza. È chiaro che è nuovo. Se prendi un ThinkPad P1, ti costa 4.000, 5.000 euro. Ma i P1, poi te li trovi sul mercato dell'ex leasing a 1.000. Mentre a 1.000 non te lo prendi un Mac Pro. Non te lo prendi. Ma io ve lo dico, cioè, se fanno, se adesso tra qualche mese mi escono con un, al, come si chiama, faranno quella, la presentazione per i developers Apple tra tre mesi, lì, secondo me, usciranno con un Mac Mini con dentro l'M1 Pro o l'M1 Max e hai finito. Dove le trovi i vecchi workstation Dell in giro? Oh, madonna. Io le prendo o su Freepici Italia o su, no, quegli altri che sono più forti. Usato garantito, mi pare, si chiamano quelli di... No, scusami, messo a nuovo. Messo a nuovo.it è praticamente... Lì trovi sia le Dell che le HP, la serie Z, e anche quelle lì sono veramente infinite a un prezzo infium. E dico la Tabacchi, però, loro ti danno 8-16 giga, ma sui nuovi processori M1 devi fare per due. Cioè, è come se fosse 16-32. Easy. Cioè, poi su performance finale è come un PC con 32, se prendi un M1 con 16. Ripeto, mi spiace, io non sono un Apple guy, però figa è... Non è... cioè, non puoi fermarti all'evidenza. No, fregatene le più RAM, non ti serve, non ti serve. Se hai un M1 Max, non ti serve così tanta RAM, non è come il PC, non te ne mangia così tanto. Io, al lavoro, c'è una workstation piccolina di quelle lì mini, che è un i5 con 8 giga di RAM. È pinnato al 100%, pinnato al 100%, come si chiama la RAM sempre. Sull'M1 non succede. Allora, lato negativo di me, che è storage interno, verissimo, ma non è più un problema da quando c'è la Thunderbolt, perché se tu ti prendi un hard disk Thunderbolt esterno, io ho preso il Trascendent, che è un M2 enclosure su Thunderbolt, ti prendi un tera di quello, è una chiavetta grande così da un tera, l'attacchi dentro, c'hai tutto. Cioè, te l'appiccichi dietro col nastro adesivo al Mac, basta. Non è più un problema di quello lì. Sai, Windows 10 sono riuscito a fargli mangiare un pochino meno RAM, con gli script quelli di The Bloat, di Titus. Adesso me ne mangia un po' meno. Sai, lossless è una battaglia che cerchiamo di combattere da ormai dieci anni col FLAC, ma alla gente sembra che non gliene fotte un cazzo. Cioè, è una roba che interessa gli audiofili e basta. La gente non vuole consumare così tanti giga. Tanto che Google stessa sta girando la sua ricerca, non ad aumentare i loro stream in modo che siano lossless, ma a fare codec più efficaci. Cioè, codec che hanno la stessa qualità, ma che consumano meno giga del tuo telefono, per assurdo. Quella lì è la differenza principale. Cioè, vedo un trend nei paper di ricerca delle maggiori società di stream audio, che è l'opposto. Cioè, al posto di usare più banda e dare più qualità, cercano di tenere la stessa qualità, ma abbassare la banda usata. Che è quello che succede anche, che succederà alla radio, che andrà sul DAB. In un canale del DAB ci stanno mille radio, no? Solo che hanno, sono tipo 96 kilobyte al secondo. Però è un ACI, quindi si sente discretamente. Però anche nelle radio FM, prima o poi, ci sarà questo passato giù dal lossless FM all'ossi. Spotify è da un bel po' che c'ha in cantiere questa cosa del lossless, però la terrà soltanto per un abbonamento a Wi-Fi, che faranno in pochi. Cioè, il grosso numero degli utenti rimarrà comunque in quello normale. Nuovo Windows non mi sta entusiasmando l'11. Non hanno preso una direzione interessante, a mio avviso. E i nuovi 9 non competono con l'M1. Cioè, richiamatemi quando l'Intel o l'MD avrà una roba che possa competere con l'M1. Certo che si può installare. Perché dici, no? Installi sull'ordisk esterno. Può installare l'applicazione sull'ordisk esterno, cioè non c'è nessun problema. Sembra Linux con KD e Plasma. Sì e no, perché ha comunque dei requisiti minimi grossi Windows 11. Cioè, tipo, su alcune mie macchine non andrebbe su. E io invece volevo, cioè, dato che è Windows una roba che fosse scalabile anche verso il basso. Però sai cos'è il problema, Alessandro? Che al tempo d'oggi, con gli harddisk M2, con la Thunderbolt, ti serve veramente di caricare in RAM tutti quei campioni? Cioè, se la roba della RAM è questa, che gli harddisk stanno diventando talmente veloci che forse non ci servirà più avere 128 giga di RAM. Perché veramente su... io ho visto una workstation che aveva il... Ciao, Giuffrida, buon lavoro! Come si chiama? Mi sono perso. Aveva la Complete, quella nuova, la 13, montata su un NVMe. Minchia! Cioè, schiacciavi sullo strumento, era caricato, no? E' quella lì la roba che, comunque, con questa velocità di harddisk inizia... Cioè, potevo capire una volta, quando avevi l'harddisk, cazzo, è stato... Cioè, su disco rotante, che dovevi caricare le robe in RAM. Poi tevio, è un po' quella lì la storia. È cambiato, il paradigma sta cambiando. La RAM diventa veramente soltanto un appoggio per il processore, ma non un posto dove lasciare dati, come poteva essere un tempo. Cioè, il memory swap, se finisci la RAM, non ti uccide le prestazioni così tanto come una volta. Questo qui è il discorso, poi, alla fine. Eh, sta cambiando i tempi, ragazzi. Cioè, non è... Questa è carta, questa è plastica. Sta cambiando i tempi. Lo Switch RME succederà se passerò veramente anch'io a un Mac Mini M1 Max. Quella lì è la storia. Sì, sì, ci stiamo arrivando su quella roba lì. Stiamo veramente cambiando il... Ma no, ragazzi, prima di uccidere un SSD moderna, veramente, ci devi minare Kia Coin tre settimane. Cioè, non... Anche quello lì è un'altra cosa, che c'è i read and write di un SSD, sono molti più di quelli che ci si immagina. E comunque, per quello che costano le NVMe adesso, non è nemmeno una spesa così impossibile sostituirla dopo due anni, capito? Cioè, metti che anche suoppi tantissimo. E fai, che ne so, cinque anni al posto di quindici. Cioè, comunque cinque anni per un hard disk, ragazzi. Mi sembra più che ragionevole. Soprattutto visto i prezzi. Allora, questa qua è il problema. Cioè, il problema della riparabilità, come dice Mario Patanè, è una realtà. È tutto saldato. E cazzi tuoi, se ti si rompe qualcosa, super cazzi tuoi, se non hai un backup dei dati sul cloud, perché non recuperi niente, quella è la parte, diciamo, molto negativa del mondo Apple. Il fatto che, come dice anche Rosman, non è più tuo il computer, no? È loro. Però diciamo che, se mettiamo da parte questa cosa, da un punto di vista dell'utilizzatore, è irrilevante che sia tutto saldato. Cioè, la percentuale di utenti che ti aprono un portatile per mettergli più rame e cambiare l'hard disk è talmente bassa che loro hanno deciso di non farlo. È una roba, come al solito, no? È una roba per nicchie di una piccola percentuale di utenti che vanno a inficciare su tutti gli altri. No, sono Brianzolo, non sono Emiliano. Radioactive Train. Con l'uscita di questi nuovi processori della Apple, Intel e MD, in questo momento mi sanno di vecchio. Cioè, mi sanno di vecchio. C'è poco da fare. Sanno veramente di un'architettura antiquata, no? Che non si è mai rinnovata col tempo. È tipo la roba che più mi piace dei Ryzen che è che adesso hanno fatto le APU, che c'è il Ryzen e la Vega, tutto assieme. No, no, certo. Allora, loro adesso devono giocare a un gioco di rincorsa, ma come ai tempi, Intel rincorreva i Motorola di Apple. Poi Intel ha superato i Motorola. La Motorola si è distratta a fare il PlayStation, non ha seguito l'Apple e quindi l'Apple è tornata su Intel. Ma adesso che si sono fatti il loro... Scusate, ho proprio il sole che mi sta sorgendo alle spalle. Guarda la barba, com'è trasparente. Riguardo la funzione Delta solo, pensi sia utilizzabile per ascoltare i precompi esterni? Non ho provato con il nerea insert. Bella domanda. Io sì, io consiglio su un M1 Max o un M1 Pro. In questo momento mi sento di consigliarlo. In questo momento sì. Sull'M1 era ancora dubbioso perché era nuovo, era una nuova tecnologia, la prima generazione non si compra mai. Questi qui mi è molto difficile non consigliarli. Cioè, da un punto di vista realistico, per quanto voglia essere uno della... Però ben venga il risparmio energetico. Io sono stanco di un computer che mi chiede un alimentatore da 1200 Watt per tenere acceso Windows, capito? Altri programmi non Apple come Ableton girano bene. Sì, perché il Rosetta 2 fa un ottimo lavoro e tutti si adatteranno agli M. Certo che in Idol non consuma 1200 Watt, ovviamente. Però capisci che escono i portatili Intel che hanno due brick di alimentatore per far andare scheda video e processore e loro hanno un bricchettino da 65 Watt che ti tiene 10 ore di batteria con più performance. Capisci che c'è qualcosa che non va. Cioè, è troppo alta la differenza. No, e invece, quanto pare, questo Rosetta 2 va da paura perché ha un convertitore di comandi interno nel processore. Non è più un layer software. È un layer hardware. È quello lì. Cioè, nel senso, se fosse di poco meno, diciamo, power hungry, direi chi se ne frega. Ma è veramente una quantità incredibile. Cioè, ma sono fisso anche se sono fatto di poter cambiare... No, no, allora, non stiamo parlando di fissi, stiamo parlando di portatili o di fissi compatti. Eh, ma guarda, aspetta pure i benchmark, ma asfalteranno tutti. Si vedeva già. Si vedeva già dalle loro grafiche che sono fatte col culo e chissà che benchmark hanno fatto. Ma arriveranno i primi benchmark e li massacreranno. A meno che ci sarà qualche grosso problema, tipo i problemi termici che aveva l'i9. Lì non puoi dire veramente niente. Cioè, latenza audio nulla, preamplificatore integrato ad alta impedenza. Cioè, madonna. No, ma poi anche la questione del risparmio energetico diventa anche una questione termica, una questione anche acustica. Cioè, il mio computer devo tenerlo in un'altra stanza se voglio lavorare. un Mac Mini M1 lo posso tenere sotto lo schermo e non lo senti andare. Ho sentito la ventola d'accendersi della Mini M1 in render dopo un'ora. Cioè, se no non lo senti. Anche quello è un comfort non indifferente a mio avviso. Cioè, io porto sempre questo esempio qua. Cioè, ok, ThinkPad. ThinkPad Lenovo normale. Se io lo apro in questo momento che l'ho appena staccato dal caricatore della batteria, la batteria l'ho cambiata quanto? Sei mesi fa. Non penso di avere più di tre ore. Non penso di avere più di tre ore. Ora ve lo dico. E ieri sera eravamo qua sul tavolo io ero amorosa lei stava lavorando col MacBook io stavo lavorando col ThinkPad io ho finito la batteria. Non c'è lì non c'è veramente paragone. E io mi devo portare dietro il brick sempre. Cioè, io sono in modalità risparmio energetico e non sono neanche in modalità ad alta performance. Se apro la batteria best performance no vediamo scendiamo a battery saver quindi già con lo schermo dimmato e tutto mi dà tre ore più che tre e venti è un po' diverso. Cioè, e su questo non ci monto un cazzo cioè se voglio montare un video non ce la fai non ce la fai non puoi montare niente lì ti apri Final Cut usi la loro GPU interna e monti tutto. Come la batti come la batti sta cosa? Sul fatto di tornare in Apple per assurdo sono ancora un po' indeciso perché al lavoro ho tutte macchine Windows cioè in radio è tutto Windows è quello lì la storia no, è il solito microfono di sempre ho preso un nuovo microfono potrei provarlo in diretta ho preso questo che è un lavalier cardioide della Holy Land vediamo come funziona in diretta così mi sento nel telefonino ve lo appiccio questo qui è invece il lavalier Holy Land com'è? mi piace? come suona? troppo compresso suona c'è più livello? no, non dovrebbe avere più livello no, mi piace di più l'archetto leggermente più chiaro più clean vi piace di più? vi lascio questo? va bene i programmi di Magic presi da Sony anche su Mac guarda io ho l'abbonamento 360 praticamente di come si chiama ho il Vegas 365 però ti dico no cioè bello a me Vegas piace tantissimo per il montaggio video per carità di Dio ma rispetto da Vinci che gratis e Final Cut non c'è paragone non c'è non c'è roba sono tanto differenti le HS7 e le T7V sì sono due casse completamente diverse una in carta e una in carbonio una al twitter a nastro e l'altra al twitter normale le HS7 io personalmente le preferisco questo qui è un po' più è un po' più harsh può essere lo sentendo anch'io forse dal telefonino ma non è male però dovrei attaccare delle cuffie che non ho però sì cali audio in 5 non le ho provate per abbastanza tempo Robert le cali per darti una review vera tutti gridano al miracolo e io non ho non saprei dirti non le ho provate per abbastanza tempo dovrei dovrei ordinarle però ti dirò con gli ascolti al momento sono a posto non ho voglia di cambiare ho trovato una combinazione che mi piace e non non ho molta voglia di cambiare casse onestamente acquistare la polla USB per Windows se l'acquisti devi essere assolutamente certo che tu abbia un USB 3 super speed che non è l'USB 3 tipo questa qua è un USB 3 ma non è un USB 3 super speed mi so che ho indicato la porta digitale della video devi non tutte le USB 3 escono uguali devi essere assolutamente se non ce l'hai non comprarla il mio cardioide se la cava bene col pattern dietro piglia molto te lo dico subito allora questo qui dovrebbe essere cardioide e qui sto parlando in diretta così sto parlando di lato e così sto facendo dietro cosa fa è un Omni che hanno detto che è cardioide oppure è veramente cardioide chi lo sa cioè si sente la stanza parecchio oppure è chiuso no USB esterna non la puoi prendere già allora se Apollo rompe le balle su queste cose qua lo senti Omni allora mi hanno truffato 30 euro fantastico ho appena stato truffato di 30 euro ma veramente da questa distanza sembra Omni fantastico scheda audio win sui 600 euro l'audient di 44 costa anche meno o se riesci l'RME no mi sa che 600 euro non ci stai però costa di più l'RME la Fireface boh non lo so ci sono tantissimi prodotti secondo me superiori all'Apollo nonostante io sia un Apollo boy mi piace moltissimo la mia non mi ha fatto impazzire il nuovo di Adele oh no mi si è fermata la videocamera esplosa oh no mi esplosa la videocamera mi esplosa la videocamera proviamo a riaccenderla dovrebbe funzionare no sì ehi ho visto le nuove UAD sono molto interessanti onestamente al momento sono sono interessanti non ho ancora capito sul price point quanto possano essere competitive molto bello che abbiano il 610 l'1176 cioè secondo me hanno senso se prendi i modelli quelli che hanno l'1176 non ho ancora capito se ci sono diverse modalità di 1176 ma mi sembra di capire di sì una si chiama vocal una guitar una drums ciao Bib grazie mille di seguire questa live non lo so è una roba è una roba strana sai che c'ho voglia di anamorfico stamattina vi metto un secondo in anamorfico se avete pazienza Bib ok adesso sarò tutto strecciato c'è tanta differenza tra Scarlett e Claret sì io preferisco la Scarlett onestamente scusate chi è una calcolatrice sottomano chi è che mi fa 1080 per no diviso 1.33 switch display trasforma modifiche trasforma 1080 diviso 812 grazie mille non mi ricordo mai che bella anamorfico adesso però devo trovare un punto dove mi si veda quanto ci garba l'anamorfico a che cinema cazzo che facciamo stamattina aiaiaiaiai cazzo sul piede mi è andato che dolor aiaiaiaiai che male porca vacca o aiaia è fatto malissimo questa cosa si omi di merda au aiaiaiaiai ah che male il piede spigolo dello xia importante sul piede au aiaiaiai bello il cinema eh però sticka cine com'è un film d'autore aiaia cazzo che male porca troia caduto anche il lavalier caduto tutto a che male piede morfico arca puttana aiaiaiaiaiai le stemmie no no l'ambulanza la lasciamo lì ma che cazzo che botta che è arrivata no se vuoi sentire Salmo devi tornare all'inizio della live cazzo che minchia che segno che mi ha lasciato gli occhi della madre la carrozzella col bambino no ok che male che dolore anamortico è bello non è molto dritto questo anamortico però è molto picco che dolore incredibile youtuber muore in diretta la pirulan fa molto bene sono molto più gasato ultimamente ma purtroppo la vera notizia è che la cosa che mi fa più bene è aver smesso di bere questa qua è la verità questa è la verità io non ti uccido i bonghi adesso ci cammino sto guardando come se si vede molto bene questa videocamera adesso ci cammino un attimo intanto vi rispondo se avete delle domande vi rispondo intanto che ci cammino ai 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 piantala con questi bonghi tu che mi uccidi l'Africa arca puttana che male non siamo mica in Africa che aveva pure tanti problemi ma di sicuro non quello del ritmo volete vedere una roba divertente questa è la mia è la mia coperta ponderata e sembra che sto facendo fatica ad alzarla perché sono tipo 70 kg di coperta no 70 no dai domanda sto approcciando un po' che ho produzione su Reaper ma quando vado a fare 600 kick basso mi entra anche il MIDI suonando note che non dovrebbe avere devo per forza consolidare le tracce? no se vai nella mandata che tu hai appena tirato se ci clicchi sopra lui ti dice che sta mandando l'1-2 nel 3-4 e sotto c'è un menu dove poi digli di non mandare il MIDI cioè il MIDI gli dici non e lui manda soltanto l'audio non il MIDI ciao fra ho comprato la tasca model 12 oddio non so quale sia non so quale sia la cosa ho fatto per collegare tutto l'hardware il punto è che non ho mai abbastanza gain in ingresso sono i convertitori di merda potrebbero essere i preamplificatori di merda quelli sì visto la logic 7 stavamo giocando prima con la sessione di Lil Nas cosa ne pensi del suono SXM dei sangue misto? non lo conosco sentiamolo subito sentiamolo qua in salotto SXM sangue misto full album vediamo lo ascolto così in salotto quanto è utile una DA box con uno scheda audio di fascia alta? zero a meno che tu non abbia problemi di come si chiama? come di ground loop di rumori di fondo se ti attacchi e non hai problemi vai dritto suona di merda sangue misto qua in salotto suona male si ma old school le screcciate cazzo è il 92 madonna come suona male una merda si può collegare un sub ad un Apollo Twin non ti consiglio di farlo con le uscite 3-4 se vuoi attaccare un sub la cosa più comoda è avere un controller esterno come una un Mackie Big Knob o una Behringer Control 1 è molto vecchio come disco ah ok no perché ho visto 2014 ma non penso proprio è un re-upload non lo conoscevo sta roba 94 ci ho beccato cioè sai cos'è il problema? è che ormai siamo abituati a suoni diversi quella roba qua o lo ascolti con una testa di nostalgia e di testo di importanza di tutte queste robe oppure dici figa cos'è sta roba vecchia? che sono? 9.37 io dovevo veramente andare al lavoro anche oggi ma che voglia ciò? no allora il fatto che possa essere storicamente importante non significa che sia bello per tutti cioè se uno è appassionato di pop ne può capire tutta la bellezza e tutto ma se io vado a far sentire sta roba a una persona non appassionata di pop non è un bel disco dal punto di vista di conico e dal punto di vista del suono poi come si chiama testi importanza sociale tutto quello che vuoi very nice very very nice indubbiamente però da un punto di vista sonico suona di culo ma è importante perché è il primo cioè dobbiamo stare attenti a questi paradigma shift che succedono nella storia il fatto che sia il primo che sia bello non lo rende automaticamente un capolavoro essere primi aiuta ma non ti eleva automaticamente a capolavoro se suonasse meglio potrei dirti sì suonavano in quegli anni c'erano persone che suonavano meglio sicuramente poi che quel suono lì abbia tutta una magia dell'old school tutto quello che vuoi io però ti dico da un punto di vista obiettivo suono di culo pure semplice eh ma vedi è questo no ci sono comunque delle robe delle robe che suonavano bene in quegli anni lì menchia si suonavano cioè poi che abbia un colore lo fai interessante tutto quello che vuoi tutto quello che vuoi ogni tanto bisogna sedersi e vedere le robe obiettive no è possibile registrare una batteria in modo degno con due microfoni e una scarlet la batteria il minimo mio personale sindacale è quattro microfoni la cosa che ti consiglio se hai solo due microfoni è o fai una recorder man e cerca su youtube recorder man tecnique che è un modo di posizionare con il metro due microfoni per fare un overhead che prenda un po' tutto ma di solito io poi sommo questa recorder man tecnique anche kick e snare più close da vicino in alternativa se è una roba un pochino più pop prendi il kick e prendi mono dall'alto centrando sullo snare un po' tutto ma in particolare lo snare in modo che almeno hai kick e snare precisi e tutto il resto sia un pochino però c'è il mono un po' la batteria ha senso comprare un mac mini m1 solo codifico adesso tutti gli altri si coderanno no no non ho capito per la sola codifica codifica di cosa ah solo per la codifica dell'atmos ho paura che l'atmos rimarrà una prerogativa soltanto mac perché non vedo molto interessata la dolby a rilasciare la versione per windows del loro tool del dolby atmos e il fatto che l'apple ce l'abbia adesso dentro logic lo rende una cosa abbastanza abbastanza esclusiva a quel mondo lì maledizione è ancora da capire se sarà usato e sarà interessante questo sicuramente questo non ti so rispondere come si sente in televisione la mia voce con questo microfono fa schifo scusatemi sentirete un po' di eco ma sono curioso Riperiani test del microfono 12345678910 12345678910 non è male dai pensavo peggio arriverà atmo su spotify ho paura di sì per semplice pressione da parte delle altre piattaforme perché vabbè apple music già ce l'ha amazon sta uscendo adesso con sia special audio 360 che quello della sony che atmos quindi le avrà entrambi spotify dovrà accodarsi vittorio sommattino no potrai sai far cosa secondo me fare un mix atmos in cuffia in binaurale e poi magari mandarlo fuori a uno studio atmos per fargli dare una controllata questa qua è la cosa questa cosa come si chiama scusate devo starnutire questa qua è la cosa che mi sono perso lo starnuto mi ha fatto perdere il discorso cioè una controllata in uno studio che ha un impianto atmosfero secondo me bisognerà dargliela un conto è arrivare con un mix stereo in stem e digli mi fai tutto il mix atmos un conto è arrivare con un mix atmos già fatto semplicemente da controllare questa è una buona questa è una buona idea dei sound shielding schiuma di quelli a gabbia sul microfono funzionano decentemente in una stanza non trattata non tantissimo Fabrizio complete omnisphere complete ho fatto l'aggiornamento la 13 è proprio figa auratone behringer coppia o avantone singola c'è differenza tra i due in che senso tra cosa e cosa io se devo lavorare in in-ear al momento uso le cuffie di toman le epi 4 mi piacciono molto le epi 4 quelle di toman base baracca con i gommini rifatti come avevo fatto vedere nel video nel video quello dei gommini fatti con i tappi per le orecchie mi suonano veramente bene e riesco a chiuderci il mix in modo riesco a tirarmi ancora il telefono sul piede cazzo non si vede un cazzo contro luce mortale tra le vantone e le berentone c'è così tanta differenza qualitativa sì purtroppo sì non sono proprio la stessa cosa ci sono su sienna le epi 4 mi sa di no ma le epi 4 non mi sento di usarle con sienna è davvero non l'ho fatto ho preso le monolite lotic ma dicevi che non vanno non ho capito cosa sono ah le monolith ma come ne ho preso due paio di 1060 come non vanno non vanno con cosa scheretta e poi vado al lavoro ah le in-ear della monolith ma non sono in-ear sono over the ear ancora quelle lì non sono in-ear sono delle mini 1060 forse ho capito quelle che hai preso no ma non sono in-ear le monolith sono comunque planari solo che sono delle mini planari e non suonano però particolarmente bene sono un po' scure tu impianti una mastering lo tiri mai un po' su per ascoltare i volumi alti per qualche secondo ma non più per 5 secondi ogni tanto salgo a controllare come suona loud ma poche volte perché è talmente bello che è già pull anche a basso volume la rubrica degli studi di vari prodotti se l'hai chiuso stai continuando sul Patreon no è che è difficile trovare materiale è tutto lì Giorgio non è roba che la gente condivide molto volentieri purtroppo non sono così cazzo settimana sono indietro a quei video produzione ho avuto una settimana veramente impossibile sono sceso a Genova sono andato a Milano e ieri ho fatto tutto il giorno al lavoro e oggi non ci vedo più della fame un giorno a fiesta eh sì è difficile perché anche quando cerchi le interviste si trova poco sarei guarda devi capire una cosa io ho due mani e 24 ore e 50.000 persone che mi scrivono se ogni tanto mi perdo qualcosa dovrei scusarmi e accettare che ogni tanto degna non riesco questa è la realtà delle cose cioè nel senso io cerco di rispondere a tutti di guardare a tutti ma non ce la posso fare come cuffie bluetooth che suonino bene per ascoltare musica ma al tempo stesso fare l'attività fisica l'unico mio consiglio sono le Jaybird sono le uniche che per come si chiama per lo sport e il suono funzionano le Jaybird le X4 se non sbaglio vi piace questa illuminazione o le nuove Sony quelle che erano in offerta non so se sono ancora in offerta forse sì su sulla media world le Sony bluetooth sono molto belle il binaurale è quel che potrebbe essere potenziato negli anni potrebbe migliorare molto se i produttori come ha fatto Sony si mettono a farti degli HRT su misura ossia tu con lo smartphone della Sony ti puoi praticamente fotografare il padiglione ok usa l'IDAR come cazzo si dice per fare il 3D del tuo padiglione e poi l'Atmos o il reality 360 come lo chiamano loro viene convertito in binaurale specificatamente per la tua testa e l'effetto è molto migliore al posto degli altri decoder che invece usano una testa diciamo standard che va bene un po' per tutti avere un binaurale personalizzato sul tuo orecchio è sicuramente sicuramente migliore quindi è una cosa che migliorerà col tempo mi immagino che anche l'Apple farà una roba simile perché ha tutti i sensori già nel telefonino pronti è un sistema che possa integrarlo quindi mi immagino che le nuove Pro abbiano semplicemente una roba di questo tipo bravissimo le VH1000 MXM3 dovrebbero essere loro lo Torino di recente no l'ho fatto questa primavera però fatto sei mesi fa un paper per il Dormi Atmos magari riesco a fare un 5.1 su misura per un studio però 5.1 non è Atmos non sufficiente 7.1.4 è il minimo a meno che tu nei 4 del tuo 5.1 metti dei Twitter up pacing che vanno sul soffitto però dovresti avere un DSP per controllare il ritardo di quanto sia alto il soffitto delle persone no l'ha presa una mia amica ha detto che sono comodissime ha cambiato il gommino ha messo il gommino grosso e vado a paura Atmos il minimo è 7.1.4 sotto quella cifra lì non è Atmos è simile Atmos se puoi fare potresti fare un 5.1 con due soli up up tweeters però un po' un po' per i capelli che non ho va bene vado al lavoro che oggi è infinita sta giornata vi lascio in compagnia di Gesù lui si che può farvi una migliore compagnia di me eccolo lo vedete è bellissimo posso fare le ombre cinesi andate in pacissima proprio no ok puoi fare 5.1.2 però non ci puoi mixare dentro cioè è una roba di standard cioè magari puoi fruirlo però come ci mixi dentro una roba del genere va bene signori buona giornata se vedemo ciao